Dobbiamo cambiare il sistema perché la crisi sta arrivando anche qui. Ho depositato tutte le proposte che avevamo promesso in campagna elettorale. Siamo stati unici e abbiamo sempre votato coerentemente. Io ho sempre votato PD, non c'entro nulla con il Movimento 5 Stelle. Ho votato lui e penso di votare il Movimento 5 Stelle. L'idea della giornata era quella di un confronto. Un confronto magari sulle vostre perplessità, le vostre domande, le vostre curiosità sul nostro lavoro in Parlamento che è fondamentale. Il potere deve essere preso in giro. Il potere è soprattutto quello sbagliato, quello che non è a favore dei cittadini ma è contro, quello che serve solo per ottenere ricchezza personale. quel potere lì va denigrato, va deriso. Perché così si rende il potere umano. E se ne possono anche individuare le debolezze, criticarlo e cambiarlo. E' stato uno dei più grandi insegnamenti che Alessandro mi ha dato. Mi consiglio di cogliere l'opportunità e di fare tutte le domande che potete perché lui ne ha fatte tante di battaglie, ne ha vinte tante e non c'era ancora. Magari potrà darci qualche insegnamento, qualche spunto per le promozioni. Grazie. 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 Poi sono qua a disposizione vostra, insieme a Riccardo, con il quale c'è piena sintonia in Parlamento, a rispondere a qualsiasi domanda, per cui parola a voi, qualsiasi cosa siamo a disposizione per dare consigli, se ne abbiamo la capacità per quanto riguarda l'organizzazione delle provinciali e per raccontarvi per filo e per segno quello che succede in Parlamento. Molti di voi sono certamente informati. Grazie. Chiedo a tutti un applauso per farvi sentire quanto siete soddisfatti del lavoro di Portavoglia. Quelli che lo servono. E dico che sono stratosferici, sono modesti. Ha ragione. Grazie. Grazie. Hai capito? Grazie. Grazie. Grazie un po', cerchiamo una risposta proprio. Non da Nemo Cristiani però eh. Da Nemo Cristiani, ho querelato per molto meno. Ah. E... state riprendendo? Sì ma se vuoi sospendiamo. C'è una cosa troppo vulcana. Ci sono. E come ci stanno nel PD, anche se si nascondono molto bene. Ci stanno anche nel PDL, nella Lega. Anzi, io personalmente, pur essendo proprio all'antitesi rispetto alla Lega, riconosco che ci sono anche buone competenze all'interno dei deputati della Lega. Il problema è la partitocrazia. I partiti, così come sono strutturati, sono gruppi di potere, sono delle banche, sono delle eligarchie dove comandano cinque persone e obbligano tutti gli altri a fare quello che dicono cinque persone. Altro che democrazia intera e Movimento 5 Stelle in cui noi decidiamo tutto in assemblea. Tutto. Tutto. Non c'è mai stata un'ingerenza dall'altro. Mai. Allora, se alle ultime elezioni il premio di maggioranza non l'avesse preso il PD, poi l'ha preso in maniera truffaldina grazie a Selle, che prima era forza di, diciamo, assieme erano alleati e erano opposizioni. Ma il premio di maggioranza l'avesse preso Berlusconi. E Berlusconi ci avesse detto, come ci ha detto Bersani, dacci voti, alleati, senza neanche mai proporci un'alleanza vera di governo. Tu mi avresti detto di allearmi con Berlusconi? No. Qual'è la differenza tra Berlusconi e Berlusconi? Che uno va con le minorelle. Basta. Basta. Perché se analizzi la politica economica, sociale, il TAP, le cooperative rosse, la lotta alla mafia, il primato dell'economia sulla politica, i doppi in carico, i corrotti in Parlamento, qual'è la differenza tra il PD e il PDL? Non c'è. Per cui personalmente mai e poi mai nessuna alleanza con il sistema partitocratico. Piuttosto che mi dimetto e torno a fare il mestiere che faccio. Dato che comunque questa è la visione che abbiamo globale, si deve puntare a un'alleanza di idee. Noi qualora cadesse il governo, non sappiamo se accadrà perché poi ogni giorno dicono cose differenti, noi ci proporremo al Presidente come forza di governo. Troveremo un nome, anche se poi il nome lo fa il Presidente della Repubblica, e un progetto con varie idee. E le presenteremo non al PD, ma al Parlamento, a chiunque, qualsiasi deputato volesse votarle. E poi i deputati si prenderanno la responsabilità di non votarle. Cinque idee. Una legge elettorale, così si può in caso di andare al voto e non c'è questo ricatto del porcello. Una legge sul conflitto di interesse, oggi teoricamente si può fare, ma sapete perché non la fanno, perché Berlusconi... Il problema oggi, lo diceva pure il New York Times, il problema in Italia non è Berlusconi, Berlusconi è un prodotto dell'anomalia Italia, non è l'unica causa. Non è che se scomparisse Berlusconi domani l'Italia sarebbe un paese normale, assolutamente no. La legge sul conflitto di interesse il PD non l'ha mai voluta fare perché ha interessi a non farla, perché scoprierebbe uno scandalo sull'MTS, è evidente questo. guardate che è una battuta che noi facciamo sempre, però dopo lo scandalo Rodotà noi andavamo da quelli del PD e gli dicevamo, ma come fate a governare con il PD? Ora che abbiamo conosciuto bene il PD, andiamo da quelli del PD e gli diciamo, ma come fate a governare con il PD? Questa è la dinamica parlamentare. Non sono battute, è vero che andiamo parlando. Io personalmente sono molto più odiato da quelli del PD che da quelli del PD. quello del PD mi odiano, tipo cammino, però quelli del PD che si parla. E' reciproco. Sì, ma io non so se l'odio è… mi fanno molta pena, soprattutto i giovani del PD perché non sono liberi e quando noi ieri ci siamo alzati in piedi e abbiamo gridato a Baldelli e a quei pochi deputati del PD in aula condannati, condannati, condannati e quelli del PD zitti, abbassavano la testa, ho capito che mi facevano pena perché noi siamo liberi di fare le nostre battaglie senza chiedere il permesso a nessuno e loro non sono liberi di urlare ai loro nemici storici del PD, condannati. E io con la gente senza palle non mi ci metterò mai. Grazie. Grazie.